...settimane fa nelle radio che è la title track, la chiamano così per del disco perché giustamente siamo italiani, abbiamo la lingua più bella del mondo e dobbiamo prenderci in prestito le parole dalle altre lingue quindi qui stanno, io tra l'altro gioco in casa, stasera vista la canzone tagliano un nome all'album, giusto? Oh! Io per stasera sono accompagnato da quattro amici, quattro grandi musicisti alla chitarra, Marcello Zappatore ha detto Marcellus alle tastiere Nanino, mi suggeriscono, detto Tuglio Tani, Henry cacciatore al basso quindi al basso, al basso Alessio, anche detto Cabello e alla batteria a Dolcisi in Fungo Giulio D'Arms Rocca insomma questa era, come vi ho detto, una delle anzi il nuovo singolo appunto quindi fa parte del disco di Nonostante Tutto ma ci sono anche canzone canzone